La Calabria la puoi scoprire percorrendo le sue splendide coste o le valli dei suoi meravigliosi parchi naturali. La puoi gustare assaggiando gli indimenticabili sapori della sua enogastronomia. La puoi ammirare immergendoti nella ricchezza del suo patrimonio artistico, inestimabile. Ma c'è un solo modo in cui puoi entrare davvero in contatto con lo spirito più profondo e intenso di questa terra. Gli itinerari culti e culture di Calabria ti porteranno a diretto contatto con una spiritualità profonda e genuina in cui si intrecciano culture, lingue e tradizioni dalle radici millenarie, luoghi sacri in cui il raccoglimento e l'estasi artistica si incontrano, pellegrinaggi e percorsi immersi nella natura, dalle scogliere sul mare, alle valli di montagna. Riti e pratiche dal sapore antico, ma sempre vivi nella passione e nella devozione dei suoi praticanti. Culti e culture è la tua porta d'ingresso verso una Calabria viva, vibrante di storie e di emozioni. E' la tua occasione per incontrare l'anima più profonda di un popolo generoso ed estroverso che ti accoglierà e ti conquisterà con le sue usanze e la sua cultura.